Ben trovati telespettatori di TV Sera, appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di sabato 29 luglio. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare il territorio italiano e il Mediterraneo in genere sgombro da nubi. Questo grazie alla presenza di un nuovo promontorio di alta pressione di origine subtropicale che ci protegge dalle perturbazioni. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni atmosferiche si presenteranno stabili e caratterizzate dalla presenza di cieli principalmente sereni o poco nuvolosi. La ventilazione risulterà debole e variabile e i mari saranno principalmente calmi. Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica non vedrà grosse variazioni con i cieli che risulteranno ancora principalmente sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio. Le temperature massime risulteranno in un aumento con valori massimi compresi fra i 29 e i 33 gradi centigradi. Nel corso della serata le condizioni atmosferiche non vedranno grosse variazioni con i cieli che risulteranno prevalentemente poco nuvolosi su gran parte del territorio. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.